Entery Cream è una pasta a soluzione orale in siringhe, usato per il benessere animale. Entery Cream è un prodotto a base di farina di carrube, dalle riconosciute proprietà stringenti e acidi organici per la modulazione del pH gastrointestinale. La farina di carrube, con la sua componente tannica, è in grado di legarsi alle proteine, rinforzando la barriera della mucosa intestinale ed esplicare le sue proprietà stringenti. Gli acidi organici, lattico, citrico e sorbico, aumentano l'acidità gastroenterica, migliorando l'ambiente digestivo e creando un ambiente favorevole ai batteri lattici.